Avvicinano le vacanze di Natale, cosa si aspetta di fare e cosa si aspetta di trovare sotto l'albero effettivamente? Innanzitutto la salute, che è la cosa più importante. Poi a Natale andrò a pranzo dai miei fratelli. Con i familiari. Anch'io con i familiari. Il Covid effettivamente spaventa queste festività? Allora, sinceramente questo del Covid che magari può bloccare uscite, fiducia ad andare altrove, no. A me questo non mi ha mai creato di tutto questo. Non mi sposterò per vari motivi e rimarrò nella mia città e andrò magari a trovare i parenti, le persone più care. Ci sono troppe cose da chiedere, sul clima, su troppe cose, su accordi ragionevoli su come contrastare il problema del clima, per esempio. Sì. Un altro grande problema purtroppo è la sovrappopolazione di questo pianeta, per cui non so cosa poter chiedere tanto al Natale. Ma niente, la buona salute è la prima cosa in base, poi due soldi ci sono quanto bastano e avanti così. Cenone si faranno, pranzi insieme di famiglia? Questa cosa con questa che c'è nell'aria non si sa cosa succede, da qui si viva la giornata e da un momento all'altro non si sa niente, per tutti quanti. Le festività si avvicinano, cosa ti aspetti di trovare sotto l'albero in maniera anche astratta, non concreta? La serenità, basta, mi va benissimo quella, per il resto, anche se non trovo niente, non è un problema. Libertà. Sì, un po' di libertà da questa tensione dal Covid che ormai attanaglia tutti. Sarebbe bene rilassarsi un attimino. Sì, un po' di libertà da questa tensione dal Covid che ormai attraversarsi un attimino di famiglia 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 di famiglia.